Sebastiano Bianchi sta bene ed è tornato a casa. Si è risolta nel migliore dei modi la scomparsa del 29enne di Verbagna, giocatore di basket nel Legnano in Serie B. Bianchi era scomparso nella notte tra lunedì e martedì dopo la partita di campionato disputata dai suoi Legnano Basket Knights contro la San Giorgese. La sua auto, una BMW, era stata trovata, parcheggiata e aperta vicino a Villa Taranto, parcheggiata sul lungo lago di Pallanza, vicino alla caserma dei Carabinieri di Verbagna, sul lago Maggiore. Ora resta da capire perché il giovane si sia allontanato da casa senza dare motivazioni.